vi spiego la situazione allora adesso noi torneremo a casa aspetteremo il giorno e ci divideremo in compiti io e valentino ok esatto a sostanzialmente io andrò in esplorazione di una caverna che non è stata ancora finita e vale andrà per cercare un punto dove potrebbe trovarsi la mappa tutto qui devo mangiare a chi devo mangiare andiamo a casa andiamo a casa mangiavole anzi vale facciamo una cosa esploriamo tutte e due la superficie caverna ne ho trovato una adesso no a chi ho fame a chi son morto non voglio ti do uno snack è una bella buonora non ho niente eccoci in casa ma che vento io mangio la roba dell'aereo piuttosto così non spreco la roba ah posso puoi vedere da qui vale dove si è apposta vediamo si pronto si ho bastoncini ho 30 frecce solo io andrò di là tu andrai alla parte opposto ovvero laggiù va bene ok a dopo vale a dopo in base ci raggiungiamo dopo si si cioè ragazzi questa merda di mappa dobbiamo trovarla perché è essenziale vero allora ma mi devi dire se la mappa in superficie secondo te o in la mappa è subito sotto una caverna che questa entrata è dal basso ed è in mezzo a un villaggio ok un villaggio con le capanne semplicemente una barca ho trovato una barca squali morti ci sono degli squali morti qua squali balene vale lo capisci se sono squali o balene una barca vado a visitarla vale c'è gente da me tanta gente che prega c'è gente che prega su una spagna ma non andare nella caverna no no zi sono in superficie e devo fare stra piano fai attenzione a chi mi sto raggirando in qualche modo cosa c'è qua dentro un libro tipo latte missing quanta roba c'è qua si può salvare ma non salvo perché inutile altre capanne audio cassetta prendila che poi la guardo io l'ho presa caverna in teoria ho trovato qua servono a keycard cosa nella barca servono a keycard per entrare sto cercando di capire dove sono se non cosa sono porti appesi tagliate a metà ok io sono nello yacht fuori strada vorrei segnarlo ma vabbè so dove lo yacht tanto me lo ricordo puoi segnarlo in altra se tu metti un rifugio il rifugio ti fa come punto di riferimento so io dove farlo allora no vabbè scusami ci sono vicino delle delle tende no non ci sono tende qua vicino faccio un rifugio ma non lo completo tanto me lo segna come cosa da costruire ok ho trovato una camicia da bosca e olbo basta ok figa sta cosa continuiamo mi stanno continuando ad introdurre c'è un alligatore no scappa ahia mi ha fatto malissimo mi ha tolto più di metà vita mi sembra strano sto posto non so perché perché la stamina si consuma così c'è un altro alligatore io non ho ancora trovato nessun villaggio oh villaggio no l'ho detto non ci credo raga più che villaggio è una capanna e basta benzina bengala che strana non c'è nulla spero di non aver lasciato niente ma vedi che era la capanna e c'era qualcosa di utile e l'ho lasciato io sono in un posto totalmente sperduto nel senso che non c'è niente ti giuro zero niente di niente terre inesplorate un'altra tenda è quella di prima no non è quella di prima è un villaggio dimmi che è un villaggio vernice vale io sembra che sono alla fine della mappa ti giuro se trovo la mappa rido troppo sposo cazzolata però no raga qua non è il villaggio della mappa una caverna vicino al villaggio entraci ci entro no raga se ho trovato veramente la mappa c'è gente appesa si decisamente ok è quella è quella cioè ti rendi conto che io sono andato nella parte nell'unica parte di mappa del gioco dove non c'è niente di niente la mappa ce l'ho ce l'ho no raga qua non è il villaggio della mappa allora sai lì dove sei sai lì dove sei vengo io da te ce l'ho bene ho la mappa vieni veloce no ora cos'è aspetta ho tre carne grande agiru's god punisce oh aspe agiru's god punisce parents and vabbè cose sei vicino a me Aki qua ok ecco ti vieni 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 dov'è mappa qua davanti eccola bussola l'hai presa la bussola si ce l'ho ce l'ho andiamo insieme mangiamo Aki mangiamo ah vuoi andare nella grotta ah si vuoi fai il fuoco fai il fuoco fai il fuoco c'ho io il cibo va bene va bene vuoi sapere quanta carne ho allora tre grandi una lucetola e due conigli bene faccio io vai mangiamo allora io non ho tanta fame bene bevo anche guarda allora a gelos god punishes a parent fall of their children allora cosa vuol dire un dio geloso punisce il padre dei loro figli porca vacca una roba del genere brutto eh ah allora oh è vero che qua si divide in un sacco di parti allora decinzione vai madonna che l'austrofobia 2 incoming ma lei qui c'è l'ascia moderna me lo ricordo veramente? sì da qualche parte qui c'è l'ascia moderna ma ricordo perché la conosco come le mie tasche questa grotta c'è Virginia no ok la vedo allora dobbiamo correre dall'altra parte uno due tre via corri guarda che brutta molotov molotov e falla sempre io devo fare gliele tiro gliele tiro io ritiro una bomba godo devati no si è incastrato godo ok distraila distraila tira la tira morta godo occhio ai bambini madonna che brutti suoni che fanno sti bambini vedi che comunque te l'ho detto c'è Virginia c'ha poca vita è il boss più scarso e beh diciamo che se ti fai colpire si è più veloce ma l'altro è più un tank è qui è qui è qui mi ricordo eccomi eccomi è qui è qui è qui ti ricordi? sì sì è qui bene l'importante è che sei tutto è pieno di dinamite pure mi ricordo dinamite bengala frecce frecce non lo so come mi ricordavo non arriva più a me chi è? sì eh non lo so frecce dinamite prendi tutta la dinamite che vuoi mamma mia è il fondamento totale porca va raga guardate quanta roba ma guardate che figa sta ascia allora io devo mangiare aspetta che facciamo calotti mangia sono coglione mangia è un coglione è un birra è un coglione è un pegame andiamo va torniamo ok ah qua ci sono le bibite non so stoffe cazzo utile utile ma mica tanto ma la mappa bisogna tenerla in mano ah no ok vedi vedi se tu apri la mappa adesso c'hai la cosa ma che figata ehi bene mi destra sinistra vale madonna quanto grossa spu ok non lo prese c'è un cuore oddio destra sinistra destra 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 no no sinistra mi sa più di sinistra destra vedo 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 vi lancio una bomba bomba addio oh esplodono boom mamma madonna vale gigante la giù c'è una luce c'è una luce ma vale ma tu ti immagini sto posto senza mappa tre immagini incredibile puoi fare un fuoco vale va bene aspetta c'ho la carne è ancora buona non posso non ho foglie ce l'ho io in teoria mamma mi vede non ne verano una di foglia stavo scherzando che sfiga ok quindi siamo andati a sinistra adesso andiamo a destra l'ultima via che ci rimane ancora destra o sinistra destra meno male che era l'ultima via ancora destra o sinistra madonna ancora destra o sinistra madonna non è possibile ma che cazzo ma è il posto di via ma siamo tornati abbiamo fatto il giro ah ma siamo all'inizio vale aspetta fammi guardare la mappa io non seguo te cioè dobbiamo andare qua a sinistra tanto io sto guardando la mappa va bene dobbiamo andare su vieni vieni è giusto è giusto qui c'è un sinistro o destra e dove andresti tu? oddio una sedia che si luce basta vale destra o sinistra sono stupro ecco si scende perché non guardo anch'io la mappa qua mi dice che non è esplorato vero è un po' vuoto a quanto sei? nel senso non uscita ho trovata sì allora mi sa che a questo punto anche l'altra non è uscita quindi dobbiamo andare c'è un pistrelli madonna se mi vengono gli infarti così però esplodo oh psycho io direi di andare a trovare sta cazzo di keycard no keycard ah la keycard? eh abbiamo la mappa no? allora andiamo a casa saldiamo e poi andiamo a prenderla qui solo che dov'è la casa? adesso sono infatti ah hai fame? si si fermo che ci sono gli uccelli ho l'arco e li ammazzo perché vai un po' per la carta un po' per le piume le piume con le piume pu' fare le frecce? ormai sono diventato forte ma vai a cagare vai aiutami dov'è? dov'è? morto morto ce n'è ancora uno mi sa sono passato sul fuoco sono un co-drillo c'è uno vieni qua durillo vale scappa chi sempre frega non a casa va bene ma qua ci sono delle tende ma che non hai visto delle tende? no no le ho viste ma non c'è niente quindi poco mi importa vabbè a prescindere dobbiamo andare a casa ok qua c'è la voragine la sta segnando sulla mappa si è bella grande è un buco nero ebbè certo è una voragine ma io mi chiedo questa voragine come cazzo si è creata? non ne ho idea come si crea naturalmente una voragine del genere? non ne ho idea esistono un meteorite potrebbe essere no troppo precisa per essere un meteorite l'avranno scavata gli indigeni? tra l'altro troppo in profondità vabbè vale per scaramanzia tu ricordati che la casa è a sud ovest ok nel sequel ci sarà la spiegazione però non si sa ah la spiegazione della voragine dici? interessante madonna io non vedo l'ora che esce che esce voglio quel gioco io me lo compro eh è stato rimandato per troppo tempo vero? dal 2019 è stato pure rimandato allora io so che è stato rimandato tre volte oh vedi siamo usciti vittoriosi da questa spedizione allora abbiamo trovato una mappa abbiamo scoperto un po' la zona ci siamo ambientati ci siamo ambientati ancora destra o sinistra ma non è possibile basta vale destra o sinistra vero penso che nel prossimo episodio cercheremo la keycard in generale i punti di riferimento vabbè chiudiamo ciao ciao